Professor Riccardo Pagano, docente universitario di pedagogia generale. Questo progetto, Scuola senza zaino, sposato dalla Scuola dell'Edda, è certamente innovativo. Un significato molto più profondo rispetto a quello fisico, materiale, dell'essere privi di zaino. Una scuola che guarda avanti. Il progetto di Scuola senza zaino è un progetto nazionale che sta avendo un buon successo e che chiaramente rimette in gioco le professionalità dei docenti. Quindi è un discorso abbastanza complesso perché riguarda le modalità insegnative che vanno riviste perché non è più la lezione frontale, quella tradizionale alla quale siamo abituati, ma si tratta di lavorare con i discenti, i quali a loro volta devono avere autonomia nella costruzione del loro percorso di apprendimento. Quindi si tratta di fare incontrare la realtà docente e la realtà alunni in un contesto diverso. Una scuola che non ha la cattedra, una scuola che ha dei momenti, dei luoghi di aggregazione, ma che al tempo stesso non deve perdere di vista la finalità principale della scuola, e quindi l'istruzione e poi ovviamente anche l'educazione. Cioè questi due aspetti la scuola senza zaino li contempla in maniera sostanzialmente diversa rispetto al passato. Perfetto.